Qui abbiamo il Crystal King, si tratta di un pedale overdrive molto interessante, sia per la qualità timbrica del suono di questo pedale, sia per i vari controlli. Anche qui parliamo di classici controlli di overdrive, quindi abbiamo i vari gain, toni e volume, ma in più abbiamo questo flavor, una sorta di timbro con più medie o leggermente più scavato del suono e il fat per ingrossare il suono sulle basse e in più abbiamo anche la possibilità di boostare il suono, chiaramente a pedale con questo more, abbiamo la quantità di boost e possiamo posizionare il boost pre distorsione o post distorsione, quindi per avere un aumento del gain o un vero e proprio aumento di volume per uscire nel suono. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima